An Agrigento proseguono le bonifiche contro le discariche e gli interventi di scerbatura. L'intervista all'assessore comunale all'ambiente Nello Amel. Proseguono i lavori di bonifica del territorio di Agrigento. Noi cerchiamo di tamponare in ogni modo quello che creano gli incividi nella nostra città. Già negli giorni scorsi è stata nuovamente bonificata la discarica della discesa Icori. Sono state bonificate le discariche di Maddalusa, di altre parti della città, di Via Toniolo. E già qualche altro sversamento si incomincia a verificare. C'è ancora la bonifica della discarica di Fontanelle, della circonvallazione, che era una discarica storica che si protrae da tantissimo tempo e che negli ultimi tempi era diventata veramente una discarica enorme. E altre discariche che verranno eliminate sono quelle per esempio in Piazza Lamalfa davanti alla isola ecologica. Noi invitiamo le persone che ancora non hanno capito che su questa strada non possono continuare perché le conseguenze che avranno saranno gravissime. Adesso ci sono tutte le forze dell'ordine, mobilitate, telecamere a raggi infrarossi, appostamenti, tutta una serie di controlli molto pesanti, con sanzioni ancora più pesanti rispetto a quelle precedenti. E lo diciamo soprattutto a coloro i quali trasportano i rifiuti con mezzi, quali lambrette, camioncine e tutto il resto, perché rischiano pure l'arresto perché essendo non privati ma commercianti o in ogni caso esercitando un'attività anche se abusiva, rischiano anche l'arresto per questo tipo di sversamenti. Inoltre sul territorio della città stiamo cercando di iniziare la seconda fase che è quella della pulizia. Ci sono già gli scerbatori e gli spazzini per quanto riguarda la via Esseneto, proseguiranno per la via Callicratide che in questo momento ha una situazione molto pesante. Stanno scerbando nello stesso tempo nella zona di Villa Seta, via Napoleone Conagliani, domani andranno a Giardina Gallotti, cercheremo di tutelare un po' tutta la città man mano senza privilegiare nessuna zona. L'importante è che la gente capisca una cosa, i sacrifici che stanno facendo per una città che non è sicuramente ottimale rispetto alla pulizia sono sacrifici che saranno ben ripagati perché in questo modo noi già ci siamo salvaguardati dal trasferimento dei rifiuti all'estero perché abbiamo il 62% di differenziata e quindi dal rischio di triplicare il costo delle bollezze della spazzatura ed in questo modo noi stiamo realizzando quelli che sono gli obiettivi della differenziata che significa risparmio, recupero dell'evasione perché già abbiamo 3.300 autodenunce più 7.500 evasori che sono stati scoperti. Ormai il livello di evasione è assolutamente minimo nella città di Agrigento. Un po' di pazienza e vedrete che i risultati ci saranno e tra non molto, tra qualche mese, noi avremo una città che ritornerà nel suo pieno splendore.